Ben trovati, ben trovati alle tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle tre cose va assolutamente fatta prima della fine del mondo quindi una delle tre cose dovete venire a farla in questi territori che sono anche gli stessi di Go2025 sapendo che la domenica è un giorno per andare in giro meteo permettendo molte persone amano andare in giro e altrettante amano andare a vedere le cose che possono essere rilassanti o anche che fanno azione che fanno movimento. Ognuno ovviamente pensa di star bene nelle proprie scelte e a questo punto benvenuti nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una di queste tre cose dovete farla per questa domenica. Cominciamo con la prima cosa, andiamo a vedere via questo nome e partiamo con la prima cosa da fare. Siamo a Crocevie d'Europa, siamo a Gorizia, visita guidata al Parco della Pace del Monte Sabotino e questa è una immagine dall'alto che vede l'isonzo visto dall'alto ed è una cosa veramente interessante. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Per quanto riguarda l'ora sono le 9 e 30 tutte queste notizie ovviamente le prendiamo come al solito dal sito di Promoturismo FWG Gorizia, punto di partenza, come vedete dal sito, punto di partenza, Piazza Transalpina. Una piccola descrizione. Nell'ambito del progetto di promozione turistica Crocevie d'Europa, percorsi culturali e visite guidate alla scoperta di Gorizia del territorio trasfrontaliero, viene proposta la visita guidata al Parco della Pace del Monte Sabotino, Sabotin Park Miru, un museo all'aperto trasfrontaliero tra Italia e Slovenia con l'accompagnamento della guida esperta sui siti della Prima Guerra Mondiale Silvo Stock. Ritrovo alle ore 9 e 15 in Piazza Transalpina, partenza alle ore 9 e 30 in Pullman gratuito per trasferirsi in quota. L'itinerario molto panoramico con vista privilegiata su Gorizia e Nuova Gorizia è volto alla lettura delle vestigia della Grande Guerra, con visita ad alcune caverne ivi presenti, immerse nel caratteristico ambiente del biotopo del Monte Sabotino. E andiamo avanti. Io ci sono già stato in queste parti per altri lavori, per altri incarichi e vi posso assicurare che è una cosa veramente unica nel suo genere. Date a vederla perché è una cosa molto bella. Per quanto riguarda la durata e praticamente tutto il giorno, otto ore percorsa e il percorso quattro ore e trenta, comprensivo di soste, la spiegazione viene fornita in lingua italiana. Per la partecipazione è gratuita. Per informazioni mandare prenotazione obbligatoria alla mail crocevie d'europa chiocciolacomune.gorizia.it e whatsapp 335 770 7746, massimo trenta partecipanti. Questa è la prima cosa da fare, ovvero una gita sul Monte Sabotino per questa domenica nel comune di Gorizia. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare. La seconda cosa da fare siamo vicini, in questo caso siamo a San Floriano, Castelli Aperti 2024, Castello di San Floriano del Collio. Questa è l'immagine e un qualche titolo. Allora si trova in Piazza Libertà 3 a San Floriano del Collio, c'è la manifestazione di Castelli Aperte. Durante le visite ai castelli è possibile scoprire i dettagli più interessanti della storia di ogni castello. A far da guida sono gli stessi castellani o guide turistiche specializzate che condurranno il pubblico in un viaggio all'insegna dell'arte e dell'architettura, unito alla curiosità sulla dimora e sugli aneddoti che si tramandano di generazione in generazione. Per info su questa cosa abbiamo un numero che è il 328, per questo qua 66 come vedete 93865 oppure scrivendo una mail a visitechiocciolaconsortiocastelli.it. La prenotazione non è necessaria. Per la domenica gli orari sono 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e chiusurali 18. Organizzato dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia. E questa è la seconda cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Come vedete dal titolo Castelli Aperti 2024, castello di San Floriano del Collio. E andiamo a vedere la terza cosa da fare per questa domenica. Siamo invece nella sinistra di Sonzo e siamo a Staranzano. Starateatro, stagione teatrale 23-24. Siamo all'ultimo titolo di questa stagione. Queste sono le due maschere. Dunque ore 16, Staranzano, sala San Pio X di Staranzano, via De Amici 10. Siamo diciamo nella stagione di Starateatro. Per quel che riguarda le notizie di questa domenica, domenica 7 aprile 2024 ore 17, quindi l'orario è leggermente differente da quello che vi ho visto. Compagnia dei giovani APS, mamma mia che pupoli. Commedia divertente da Twist di Clive Eckston, adattamento in dialetto triestino di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgerla. Spettacolo organizzato dall'Armonia APS. Informazioni sul sito www.teatroarmonia.com e sulla pagina facebook l'Armonia Teatro. Questo è a Staranzano, alla sala San Pio X, che per la cittadina della sinistra e sonzo è uno dei fulcri, dei fulcri se si può dire fulcri, per quanto riguarda la cultura a Staranzano. Sala San Pio X di Staranzano, via De Amici 10. E questo è tutto per quanto riguarda la nostra puntata di oggi. No, evidentemente sì, non abbiamo altro. Eccola qua, siamo arrivati alla fine. Se passate sulla nostra pagina facebook e ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia sempre più persone. Voi sarete sempre informati di quello che succede e quindi tutte le domeniche avrete qualcosa da fare sicuramente prima della fine del mondo. È tutto dicevamo per oggi, noi ci vediamo fra sette giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!